Il Dottor Albano si insedia nel commissariato di pubblica sicurezza di Ustuni. È un commissariato particolare, non perché è il nostro commissariato, Dottor Albano, perché si è instaurato negli anni un rapporto molto particolare tra noi giornalisti e voi operatori, che ha dato anche dei buoni frutti e della buona pubblicità, tra virgolette. Lei ha parlato in conferenza stampa di una disponibilità e di un'apertura di questo commissariato alla gente. Non è una novità assoluta, però è importante che lo dica lei appena arrivato, perché normalmente l'abbiamo sentito in corso d'opera. Sì, confermo, un commissariato di pubblica sicurezza di Ustuni, un commissariato che sarà aperto alla cittadinanza, quindi disponibile all'ascolto della stessa, anche perché ritengo e riteniamo che la collaborazione da parte della collettività sia fondamentale e può essere l'arma in più per svolgere in maniera adeguata e ottimale il nostro impegnativo lavoro. Intorno a lei c'erano alcuni riferimenti di questo commissariato che rappresentano tutti gli operatori, persone di cui avrà sicuramente bisogno, ma ne avrebbe fatte meno? Sicuramente no. Anzi, penso che lei proprio come formamenti sa proprio bisogno di collaborare. Ha detto anche in conferenza stampa, massima disponibilità anche alle altre forze dell'ordine. Lo vogliamo ribadire in questa intervista? Sono fondamentali due aspetti su tutti. Nei momenti iniziali di insediamento l'osservazione reciproca è fondamentale ed è fondamentale anche vivere dell'esperienza assodata nel tempo di collaboratori eccelsi che sono attualmente presenti all'interno di questo commissariato e che continueranno a fare tanto per questo territorio e per la collettività tutta. Perché noi abbiamo un unico obiettivo, quello di garantire la sicurezza e di farla percepire effettivamente e quello di provare a garantire alla generalità dei soggetti un territorio quanto più possibile tranquillo e ben sistemato. Quindi cercando di attenzionare tutte quelle che possono essere le fenomenologie criminali che possono, come dire, insistere sullo stesso. Dal consumo, lo spaccio di sostanze sufficienti, passando per i reati cosiddetti predatori quindi che offendono il patrimonio, nonché alle persone o che si verificano all'interno delle mura domestiche. Quindi con una lente di ingrandimento sulle varie fenomenologie sempre presente, costante e ben approfondita. Voi tutti siete deputati alla repressione del crimine ma speriamo che questa sia la parte meno consistente del vostro lavoro. Questo commissariato si è connotato nel passato anche per un'opera di formazione della comunità, interventi anche nelle scuole, di pubblicizzazione di eventi e anche per rendere più comprensibile ai ragazzi l'operatività della polizia. Ritiene di continuare su questa strada? Ritengo che sia fondamentale fare anche questo perché, come diceva giustamente lei, noi non viviamo solo di momenti di repressione ma cerchiamo anche di evitare questi ultimi tramite una sana e sacrosanta prevenzione. La prevenzione passa attraverso tanti momenti, sicuramente tra questi momenti è molto importante quello dell'incontro e anche di coloro che saranno poi gli uomini e le donne di domani. Quindi mi riferisco agli istituti scolastici dove è importante andare a parlare di legalità, di costituzione, di fenomeni criminali che passano attraverso il web. Penso per esempio alla forma informatica del bullismo, il cosiddetto cyberbullismo. Cioè bisogna, o ancora allo stalking, bisogna parlare di tutte queste cose perché? Perché attraverso i convegni, attraverso anche le esperienze personali e professionali, attraverso il lancio di video ad effetto si comunica, comunicando si apprendono le insidie e magari si hanno maggiori armi per poterle evitare e quindi evitare la repressione sostanzialmente. Quindi questa apica è sempre ovviamente avuto riguardo a quelle che sono le esigenze numeriche perché ovviamente...